Il dialogo interdisciplinare che la Fondazione promuove passa anche attraverso iniziative specifiche come il workshop che ogni anno riunisce i borsisti dell'anno precedente che quindi presentano in questo ambito le ricerche che hanno condotto con la Borsa della Fondazione e hanno un'occasione di confrontarsi, di confrontare metodologie e ambiti di ricerca in modo tale da ampliare la prospettiva intellettuale con la quale guardano ai vari problemi più teorici o più applicati che la loro ricerca ha perseguito.